GF VIP 7, ecco perché in puntata non ci sono sorprese per Alberto De Pisis, un comunicato svela il motivo. Anche questa edizione del GF VIP, la più lunga della storia, si appresta a chiudere i battenti e traliti. Riappacificazione ed eliminazioni, c'è spazio anche per le ultime sorprese da parte di amici e parenti ai vipponi ancora in gioco. Alberto De Pisis, però, in questi sei lunghi mesi ha ricevuto solo una sorpresa da parte della mamma al contrario di quanto accaduto con molti altri concorrenti. Che hanno ricevuto la visita di diversi familiari. Molti sul web hanno attribuito questa mancanza alla produzione del reality. Ria di non dare le giuste attenzioni a tutti i concorrenti. A quanto pare però, la mancanza di sorprese per Alberto, non sarebbe da imputare al programma. Bensì ad una precisa scelta dei familiari del vippone, che sin dall'inizio hanno chiesto di non essere coinvolti nel percorso dell'influencer. In quanto preferiscono non apparire. A chiarire la questione è stato lo staff di Alberto, tramite un comunicato pubblicato sulla pagina Instagram del GFino. Il nostro corso di non servizio della vita, non servizio di non servizio di non servizio di non servizio, non servizio di non servizio. Inchide ochi, poti imagina Ca lumea e a ta Si in plus, poti sa sari sus Sus, sus, sus Ai mei, ai mei, ai mei N-au avut hava Cand'è sus, cand'è sus Cand'è sus, pot eu